Hai mai pensato ai tuoi geni e a come possono influenzare la tua salute? Hai mai pensato di avere maggiori probabilità di avere determinati problemi di salute a causa dei tuoi geni? Si scopre che molte malattie possono essere collegate ai nostri geni. Il test del DNA per le malattie azionabili è uno strumento potente che può aiutare coloro che vogliono scoprire a quali malattie sono più suscettibili. Non vorresti anche tu saperlo in anticipo? Ma come funziona questo test del DNA? L'American College of Medical Genetics è un'organizzazione composta da professionisti sanitari che si concentrano sulla comprensione dei geni e su come questi influenzano la salute. Questa organizzazione ha definito linee guida che individuano varianti genetiche che aumentano la probabilità di causare o contribuire a una specifica patologia genetica. Con il test del DNA per malattie trattabili si determina se una di queste varianti genetiche è presente nel tuo DNA. Il test del DNA per le malattie azionabili è diviso in tre gruppi. Disturbi che possono aumentare il rischio di cancro. Disturbi che possono aumentare il rischio di problemi cardiovascolari. E altri tipi di disturbi. Esaminiamo più da vicino il primo gruppo. Il nostro corpo ha meccanismi che assicurano che la cellula non si divida troppo rapidamente. Il problema sorge quando questi meccanismi non funzionano. In questo test del DNA analizziamo la presenza di varianti in geni che, quando mutati, disturbano questi meccanismi che controllano la divisione cellulare, aumentando il rischio che le cellule inizino a crescere in modo incontrollabile e portino all'apparizione di tumori e di alcuni tipi di cancro. Alcuni esempi sono il retinoblastoma causato da una mutazione nel gene RB1, la sindrome di Von Hippel-Lindau causata da una mutazione nel gene VHL, la sindrome di poliposi giovanile che può essere causata da una mutazione nei geni SMA-D4 o BMPR1A, il sindrome della neoplasia endocrina, multipla di tipo 1 causato da una mutazione nel gene MEN1 e molto altro ancora. Per quanto riguarda le condizioni che possono aumentare il rischio di problemi cardiovascolari, analizziamo la presenza di varianti in geni noti per influenzare lo sviluppo di cardiomiopatia ventricolare, destra aritmogena, la sindrome di Brugada, la sindrome del QT lungo e la sindrome di Lois Dietz. Questi sono diversi tipi di problemi legati al cuore. Le conseguenze di queste malattie cardiovascolari possono variare da battiti cardiaci irregolari a eventi potenzialmente letali come l'arresto cardiaco improvviso. Sapere di avere un rischio maggiore a causa di fattori genetici permette una rilevazione precoce e una gestione proattiva. In questo test del DNA puoi anche scoprire se hai un rischio maggiore di sviluppare altre malattie come l'ipertermia maligna, una reazione rara ma potenzialmente letale a certi farmaci usati durante l'anestesia, la sindrome di Marfan, un disturbo genetico che colpisce il tessuto connettivo, principalmente nel cuore, negli occhi e nel sistema scheletrico, la carenza di ornitina transcarbamilasi, deficit di OTC, un raro disturbo metabolico che colpisce la capacità del corpo di processare l'ammoniaca, la malattia di Fabry, un disturbo ereditario che colpisce vari organi, inclusi i reni e il cuore. E altro ancora.